Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 per incidente 2 km di coda tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Code tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Code in uscita a Firenze e Scandici, provenendo da Roma. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Monte Catini e l'allacciamento con la 1 e 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola. In Fipili per lavori 2 km di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestro Fiorentina in direzione Firenze e rallentamenti tra la Strassigna e Ginestro Fiorentina in direzione Livorno. Per traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze e code in uscita a Scandici, provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio! In Fipili per lavori 2 km di coda tra la Strassigna e Firenze.